Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video in cui per fare l'inquadratura un po' più larga ho dovuto mettere la fotocamera sul balcone con la finestra aperta quindi spero non sentite troppo rumori di fondo comunque ho deciso di farvi un nuovo video sulle distro migliori per raspberry visto che il primo vi è piaciuto un sacco veramente quindi mi sono preso i miei appunti sulle distro dopo dicono che fare lo youtuber è facile però vi voglio parlare veramente di cose interessantissime le distro che vedremo oggi mi sono veramente piaciute tutte un sacco l'altra volta avevamo visto Raspbian Diet P, P Music Box, Retro P, Open Media Vault, Calinux e Windows 10 alcune mi erano piaciute un po' di più alcune un po' di meno queste qua di oggi sono veramente tutte fighissime queste di oggi sono veramente tutte fighissime tranne forse OpenVRT che è quella con cui partiamo nel senso che è un po' meno appariscente delle altre diciamo però comunque fa il suo lavoro partiamo subito da questa è un firmware per router è un firmware per i router esiste anche per il mio Xiaomi router 3 insomma è compatibile con praticamente qualsiasi router esista sulla faccia della terra ed è compatibile anche per raspberry mi sono preparato qua il raspberry P3 e il raspberry P3 B Plus alcune delle distro che proviamo oggi le ho provate anche sul B Plus e funzionano altre invece specificamente c'è scritto non usatele sul B Plus perché non funzionano ancora su B Plus comunque ne parleremo dicevo OpenVRT è compatibile con i raspberry il 2, il 3B e il 3B Plus mi sembra comunque con entrambi questi qua anche se c'è una distro diversa per i due raspberry ed è come ho detto un firmware per router quindi ti permette di fare ti permette di customizzare tutto orientato al routing di dispositivi internet non è il massimo con i raspberry che ha una sola porta ethernet è meglio se installate su un router OpenVRT infatti non so quanto senso possa avere installarlo su raspberry ho voluto parlarvene in apertura molto velocemente perché comunque penso sia utile sapere che potete usare il vostro raspberry come router di rete è veramente tantissimo personalizzabile non potrei neanche incominciare a descrivere tutte le cose che può fare è veramente il firmware più customizzabile che esista per router ci sono plugin, ci sono applicazioni, cose c'è di tutto che ci può star su ed essendo nato da installare sui router anche quelli sfigati che ti dà la team che ti dà il Vodafone quelli che la dà da pochi soldi è comunque anche pensato per girare con pochissima RAM pochissima CPU insomma è ben ottimizzato e a proposito di ottimizzazione passiamo alla seconda distro di cui voglio parlarvi che è l'unica che esista da quello che ho trovato che sia in 64 bit perché come sapete il nostro raspberry p3 già il p3b normale senza passare al plus ha un processore ARMv8 processore che è a 64 bit però tutte le distro che esistono essendo per la maggior parte basate su raspbian dipendono da raspbian e raspbian diciamo non esiste in 64 bit non è ancora stato sviluppato non so perché ci stiamo mettendo così tanto tempo perché non si muovono però sapete che con i raspberry avete un processore a 64 bit però potete installarci solo sistemi operativi a 32 bit tranne il nostro p64 che è quello di cui vi parlo adesso è basato su un Debian stretch molto molto brutto con interfaccia LXDE sa da vecchio però è l'unico che permetta di far andare i raspberry a 64 bit e quindi di eseguire tutti quei programmi che esistono solo per 64 bit e non sono pochi di avere comunque più potenza più veloce questa distro esiste in versione light e in versione desktop come raspbian anche se non c'entra nulla con raspbian è proprio fatto a partire da un Debian esiste in versione light per dispositivi headless quindi senza interfaccia senza mouse e tastiera semplicemente linea di comando come raspbian light e in versione desktop che è quella che avete visto fino a un momento fa nel B-Roll c'è qualche ottimizzazione specifica di questa distro in particolare leggo qui si può creare un file che si chiama setup nella partizione boot cioè quella che potete accedere normalmente da esprima risorse di Windows se mettete un file setup tutto quello che c'è scritto lì dentro viene eseguito al primo setup e quindi questo permette ed è molto comodo per creare proprie distribuzioni basate su P64 quindi se volete creare una propria distro a 64 bit potete mettere un sacco di comandi nel setup che ad esempio uccidono LXDE e mettano un ambiente desktop un po' più bello che installino tutti i vostri programmi che volete avere già preinstallati nella vostra distro che cambino lo sfondo col vostro faccione a schermo intero per dire e devo dire comunque che in fase di primo avvio di primo boot questo setup anche se non avevo messo niente comunque ci ha messo un'eternità perché lui ti scrive sulla linea di comando si sto configurando le cose del primo avvio ci posso mettere fino a qualche minuto in realtà ci ha messo tipo un quarto d'ora cioè per un quarto d'ora è rimasto lì fermo piantato sono stati inclusi anche due comandi specifici P64 config per qualche configurazione in realtà è un menu di configurazione che ha solo quattro voci e P64 update per aggiornare il kernel dicono di non aggiornare il kernel con apt-get perché non è compatibile non lo trova nei repository insomma se aggiornate il kernel con apt-get si corrompe tutto va tutto a quel paese prima di passare ai pezzi forti di questo video ci sono quattro distro che sono veramente fighissime e volevo spendere anche una parola su Android perché non ne avevo parlato nel video scorso avevo parlato di Windows 10 è uscito da pochissimo con il Google I.O. di quest'anno quindi a maggio 2018 è uscito Android Things una versione di Android specifica per l'Internet of Things è fatto per l'utilizzo di un'applicazione cioè voi create un'applicazione con Android Studio fatta per Android la caricate su Raspberry come se fosse un Arduino con il tasso upload e il Raspberry terrà in esecuzione quell'applicazione a schermo intero è fatto per i dispositivi embedded non so un tablet intelligente da mettere in cucina per mostrare le ricette uno schermo con Netflix integrato quelle cose che hanno uno scopo ben specifico diciamo comunque ci ho fatto un video intero dedicato quindi vi lascio da una di queste due parti dovrebbe comparire la scheda se siete interessati ad Android Things andatevi a vedere ci ho fatto un video apposta dedicato completo una distro che mi è piaciuta veramente tantissimo una figata è Octoprint Octoprint di cui assolutamente voglio farci un video se prima o poi avrò una stampante 3D quindi comparirà qua alla scheda se voi state guardando questo video magari un giorno che avrò stampante 3D è fatto appunto per la stampante 3D è una distro pensata apposta per la stampante 3D è in realtà semplicemente un Raspbian proprio pulito beh proprio un Raspbian che ha semplicemente installato un programma che si chiama Octoprint la distro si chiama Octopi il programma si chiama Octoprint lo ha in esecuzione automatica lo ha già fatti tutti i setup tutte le cose che funzionano i driver che servono insomma ha un solo programma ed è costruita tutta la distro attorno a quello è fatta veramente benissimo non si fa niente da linea di comando cioè se voi attaccate uno schermo hdmi vi dice hey benvenuto inserisci la password ma non c'è nient'altro tutto si fa dall'interfaccia web browser insomma potete accederci sia con l'indirizzo IP del Raspberry nella rete locale ma siccome è sempre scomodo trovare l'indirizzo IP di un Raspberry hanno fatto anche un URL locale della LAN insomma quindi vi basta digitare octopi.local e vi trovate su Octopi ovunque sia qualsiasi sia il suo indirizzo IP all'interno della rete è una distro pensata per le stampate 3D come ho detto quindi intanto ha uno slicer facoltativo nel senso si può fare slicing sul proprio computer con il programma che si preferisce e dopo caricare direttamente il G-code chi se ne intende un po' di stampa 3D capirà di cosa parlo per gli altri semplicemente lo slicing è quel processo in cui si trasforma un modello in 3D a un proprio percorso per la stampante e quindi si può fare questa cosa o sul computer e poi fare upload del G-code direttamente da browser su Octopi e poi lui ci pensa senza dover lasciare acceso il computer per notti intere mentre stampate mettendogli l'alimentazione mettendogli caffeine perché non vada in stand-by lasciateli i Raspberry i Raspberry essendo un computer ci pensa a lui la stampante 3D che la stampante 3D alla fine è un Arduino quindi la connettete con la porta USB e lui ci pensa a gestirsela per i fatti suoi voi il computer potete andare all'università a studiare col vostro computer potete andare in giro potete fare quello che volete potete spegnerlo il Raspberry sta per i fatti suoi l'alternativa a caricare il G-code è addirittura usare lo slicer integrato perché ha cura integrato cura è un programma non cura engine insomma è un programma per stavolta 3D che contiene anche uno slicer quindi può fare slicing anche in locale voi li caricate il modellino 3D gli dici slice e poi stampa e lui si fa tutti i suoi calcoli e dopo si mette a stampare quando ha finito si ferma eccetera eccetera sempre nell'ottica di usarlo solo da GUI solo da remoto quando create la distro c'è già un file che si chiama octopvpasupplicant.txt in cui potete semplicemente mettere nome utente e password della vostra wifi se userete octop connesso via wifi e non connesso via internet in modo che quando voi caricate la distro e date corrente a raspberry lui nella sua ottimizzazione iniziale si connette già alla wifi che voi volete e quindi non dovete andare a smanettare nel terminale SSH cose varie avete raspberry che cioè voi date corrente a raspberry la prima volta accedete al browser octop.local e vi si apre il setup il setup che è fatto benissimo mi chiede un sacco di informazioni sulla mia stampante l'area di stampa le dimensioni l'altezza insomma tutte le informazioni sulla stampante si possono creare più profili se avete più stampanti potete creare il profilo non so reprap il profilo anet a8 il profilo cossel delta e quindi di volta in volta scegliete quale stampante stampare lui si tiene in memoria tutte le informazioni di quella stampante in generale comunque è una distro barra un programma che è veramente completissimo ci sono plugin tantissimi si possono caricare pacchetti di lingua ci sono le api ci sono un macello di impostazioni potete personalizzarla un sacco è fatta bene l'interfaccia addirittura pensate si può connettere una webcam a raspberry per puntarla sulla stampante 3d insomma e potete usare quella webcam per fare streaming da remoto non so se state stampando quando non siete a casa ad esempio con la webcam potete controllare come sta procedendo la stampa e magari se vedete che si è tutto aggrovigliato che si è scollato dal piatto che è cominciato a far cesso lo fermate subito senza buttar via a chili di plastica tornando 5 ore dopo quindi streaming con la webcam ma può anche registrare può anche farvi il timelapse della stampa facendo una foto ogni tot secondi oppure facendo una foto ogni cambio dell'asse z quindi ogni layer può farvi questo è bellissimo fare il timelapse ogni livellino e quindi alla fine il video viene proprio della stampa che si monta così provatela se avete una stampa di 3d perché veramente è la svolta una parola anche su hassio hass.io detto anche home assistant cioè è basato su home assistant ma è una distro fatta per raspberry fatta per non dover smanettare nel terminale è fatta per la domotica è veramente il miglior distro di domotica che esiste nel senso che ho dato un'occhiata anche a open hub ho dato un'occhiata abbiamo provato switchando in passato questo qui è veramente il più completo maturo come interfaccia con tanti plugin super ufficialmente supportato da tutto è completissimo si possono fare grafici webcam interruttori slider cose rgb anche qui ci sono un sacco di plugin è veramente super completo per domotica si vedono di quelle interfacce gigantesche ha anche player per la musica se avete una una chromecast connessa o un altro dispositivo musicale compatibile è compatibile con la domotica xiaomi con ift con i nostri sonoff che abbiamo già usato nelle vecchie serie di domotica anche questo qui ci ho fatto un video dedicato finora ma in realtà sarà una serie ho fatto il primo episodio della serie link al primo episodio link al primo episodio qua sopra la penultima distro da tradizione è quella di hacking oggi vi parlo di parrot parrot che mi è piaciuta tantissimo di più di cali avevamo visto l'altra volta cali linux per raspberry ma parrot è fatta veramente molto molto meglio intanto ha una quantità di tool allucinante perché cali per raspberry ne aveva veramente poche toni avrà avuti tipo sui 30-40 cali linux invece parrot deve averne 300-400 una cosa infinita cioè proprio il parrot completo con tutti i tool che ci sono su parrot os carino anche lo sfondo me lo ricordavo diverso me lo ricordavo eccolo qua con il papagallo quello fatto di carta azzurra veramente consigliatissimo per l'hacking lo preferirei a cali linux cali è più famoso lo usano in mr robot però parrot è veramente bello e poi una cosa che adoro è il terminale di parrot mi emoziona proprio vederlo è tutto colorato è proprio caotico non ha senso usare due righe per ogni input però è bello così è cacofonico è colorato mi piace veramente tantissimo la cosa che ho sempre adorato dalle prime versioni di parrot in poi veramente pollice in su per questo ah a proposito metti pollice in su a questo video se ti è piaciuto se ti sta piacendo non so possiamo aprire ad esempio Ethercap e metterci a intercettare tutte le password che transitano su una rete semplicemente con due click e con un raspberry è veramente fighissimo questo parrot esiste in versione 64 bit per il pine 64 che è una scheda che è fratello del raspberry per raspberry esiste solo a 32 bit infatti se ci richiamo nelle informazioni sul sistema mi dice che il processore è un ARM V7L questo V7L è un escamotage che usano tutti anche raspbian siccome ARM V8 è per forza 64 bit e il raspberry usa ARM V8 per fare le distole a 32 bit lo chiamano V7L cioè una versione più potente con un hardware diverso perché alla fine l'hardware è quello di un V8 ha il SOC diverso la frequenza della CPU diversa insomma tutte le robe lo chiamano V7L perché ha l'hardware del V8 però è a 32 bit come un V7 non so cosa aspettano a fare queste distro a 64 bit per raspberry cioè tre anni che è uscito e ultima ma non ultima un'altra distro che mi è piaciuta veramente tantissimo che farà felici tutti gli amanti dello streaming e di cose diciamo stendiamo un vero pietoso OSMC Open Source Media Center è una distro pensata per televisioni pensata per telecomando infatti tutti i menu sono ottimizzati per usare le quattro frecce pur avendo il mouse collegato mi sono trovato più comodo a utilizzare le quattro frecce della tastiera come se fossero le quattro frecce del telecomando della televisione perché proprio è tutto ottimizzato da vedere in tv ed è essenzialmente una distro che fa dell'arcinoto Kodi il suo punto di forza e insomma è veramente figo come tv box può riprodurre video foto audio presenti nella memoria interna che però è piccola se usate l'Sd dei raspberry sia in dispositivi esterni un hard disk una chiavetta un qualsiasi roba con esso via usb può riprodurre streaming proprio Kodi quindi andate a informarvi su Kodi se non lo conoscete tra l'altro un mio iscritto un mio fan il famoso Antonio delle live ha sviluppato anche un plugin per Kodi per vedere i video di overvolt è semplicemente un plugin che streama i video di overvolt da youtube vi lascio in descrizione il link per scaricarlo non l'ho provato perché non penso di aver mai usato Kodi in vita mia però grazie Antonio e non so dateci un'occhiata fatemi sapere come è se vi piace anche questa è una distro comunque che punta ad essere più facile da utilizzare possibile anche qui quando di date corrente deve avere l'HDMI collegato ma giustamente essendo una roba da connettere alle televisioni vi fa una bellissima interfaccia grafica con una progress bar che dice installazione in corso quando ha finito vi fa un minimo di setup iniziale in cui vi chiede un po' di informazioni sulla lingua sulle solite cose insomma di setup iniziale e dopo vi trovate già nel menu menu che è molto da televisione andare in su in giù con le tre sinistra si va avanti e indietro ma anche con enter si va avanti anche qui si possono scegliere diversi temi da applicare c'è anche il tema classico di Kodi per chi è affezionato al vecchio Kodi che però su Raspberry non ha più senso perché questo OSMC anche come performance è molto molto più ottimizzato quindi i video laggano di meno si vedono le cose meglio insomma è fatto molto meglio delle vecchie distro che usavano Kodi come programma esterno apprezzo invece tantissimo quanto semplice sia l'overclock con questa distro dal menu rapido direzionale anche questo bellissimo si può accedere facilmente alla voce overclock in cui si può aumentare la frequenza di clock del processore la frequenza di clock della ram il voltaggio del processore il voltaggio della ram il turbo boost si può veramente personalizzare un sacco l'overclock e si può proprio squisare molta più potenza da questo Raspberry di quanta ne abbia con le frequenze stock insomma e per una roba che deve riprodurre video ci sta un sacco potergli dare quella sveglia in più per riprodurre i file ricordo che il Raspberry a livello di hardware ha l'HDMI che supporta massimo 1080p quindi non aspettatevi un output 4K perché questa HDMI non supporta il 4K è una cosa che gli hanno criticato tutti nella versione B+, gli hanno detto oh avete fatto l'upgrade ma metterci un'HDMI 4K cosa vi costava e invece anche il B+, ha l'HDMI 1080p aspetteremo i Raspberry P4 per il 4K magari si chiamerà Raspberry P4K sai che figata che sarebbe comunque per questo video sulla distro è tutto pollizioni in su se vi è piaciuto seguitemi sui social per le live della settimana se no ci vediamo mercoledì a luna con il mercoledì due volte però non mancate nelle live perché parliamo sempre di un sacco di cose interessanti su Twitch una o due volte alla settimana alla sera insomma mi fa piacere se ci siete pollice in su l'hai messo il pollice in su bravo e niente ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti